Salve, sono Lorenzo Giannoni e frequento l'Istituto di istruzione superiore Giorgio Asproni di Iglesias e frequento la terza A dell'indirizzo scientifico. Ho partecipato al premio Asimov, al quale la mia scuola appunto ha già partecipato negli anni precedenti e questo concorso mi ha interessato particolarmente. Tra i libri presentati al concorso ho scelto Il pianeta umano di questi due autori che sono Simon Lewis e Mark Maslin. La lettura di questo libro è stata agevole anche grazie alla semplicità espositiva e ad alcuni grafici e immagini di estrema facilità nell'esposizione. L'argomento trattato dal libro, essendo di estrema attualità, ha pienamente colto il senso di questo concorso che è appunto la divulgazione scientifica tra i giovani. Sono molto contento di aver partecipato a questo concorso e di aver raggiunto anche questo risultato inaspettato. In bocca al lupo a tutti per la finale.